E' una tematica che fa discutere da sempre, se ne lamentano in tanti, così come ha fatto un bambino che ha deciso di inviare una lettera al sindaco di Pesaro Matteo Ricci con su scritto Ciao, sono Alessandro, ho 7 anni e ho un grossissimo problema. Abito in via Scaroni e sempre per andare a scuola devo evitare le cacche dei cani sul marciapiede di via Oggolini. Anche stamattina io e mia mamma per andare a missa ne abbiamo contate 5. E' ora di fare qualcosa? Ricci non se l'ha lasciato ripetere, né la corrispondenza ha annunciato il giro di vite. Caro Alessandro, ha risposto il sindaco, il mio auspicio è che la tua lettera faccia riflettere e vergognare le persone maleducate. Crediamo nel valore della cultura e nell'impegno delle nuove generazioni e siamo inflessibili. Le sanzioni saranno applicate con rigore. Abbiamo 30 postazioni ad hoc già installate per la raccolta, colonnine con cestini, sacchetti e pannelli informativi. Altre 15 se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Bisogna rispettare il senso civico e vigileremo. La multa prevista 100 euro. Su questa tematica stamattina la nostra redazione ha chiesto il parere ai cittadini fanesi. Che cosa pensate? Sono d'accordissimo. E' una sporcissia che uno non si salva in certi posti. Lei ce l'ha al sacchettino per raccogliere gli escrementi? Guardi, è qua. Che cosa ne pensa invece di coloro che non se lo portano con sé? Che sono degli sporcaccioni e anche maleducati. Un senso di civiltà ci vuole. Quando hai un cane gli altri non devono subire quello che il tuo cane fa. Buongiorno signora. Che cosa ne pensa di coloro che non raccolgono gli escrementi dei cani? Mi fanno veramente schifo. Perché sono maleducati. Perché vanno raccolti. Vanno per l'educazione e il rispetto delle altre persone. Signora, vedo che anche lei ha un cagnolino. Che cosa ne pensa di quelli che non raccolgono invece gli escrementi e li lasciano in giro? Non ci sono parole. Non ci sono parole perché siamo letteralmente schifosi. Io ho tutto l'occorrente anche se non hai la bustina dei cani, quelle carine e quelle lì. Non ho mai. Colpevoli siamo noi. Secondo voi dovrebbe prestare maggiore attenzione anche questa amministrazione comunale? Questa qui di Fano? Sì. Ma forse sì perché qualche escremento si trova in giro. Ci si mette i piedi sopra veramente. Ci si accorge perché... Sì. Io ce l'ho il cane però c'ho sempre il sacchetto. Anche se vado in mezzo a un prato, in campagna, lo raccolgo. Mi è successo anche di raccogliere quelle degli altri veramente. Nel 2014 la Polizia Municipale di Fano ha effettuato circa 20 uscite in borghese finalizzate a questi controlli ed ha riscontrato 6 violazioni, controlli che proseguiranno anche nell'anno in corso. E come ricordato dagli stessi agenti, l'obbligo di raccogliere le fece previsto dall'articolo 35 del Regolamento di Polizia Urbana, secondo il quale i detentori di cani che conducono gli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico, sono obbligati a munirsi di doni e attrezzatura per la rimozione degli escrementi, come un'apposita paletta con sacchetto impermeabile, venduti nei negozi per animali e in caso contrario si rischia una multa di 50 euro, mentre nel secondo punto si obbliga a raccoglierli immediatamente, altrimenti la sanzione prevista sarà di 60 euro. Gli unici esentati dall'osservare queste prescrizioni sono i conduttori non vedenti di cani di guida. È d'accordo? Sì, molto. Quindi anche lei che ha un cane, magari frequenta spesso anche parchi, come la vede la situazione? Io vedo anche molto per le strade, c'è sempre parecchi escrementi in giro, io che ho anche un cane, lui se li pesta, anche per lui, per noi, per tutti, non è igienico, non c'è pulizia, non c'è controllo. È un segno di civiltà e di rispetto anche per le altre persone. Che sbagliate io li raccolgo. Quindi anche lei è munita di sacchettino o di paletta? Non c'è bisogno per me la paletta perché ce l'ho piccoletto, guarda. Ecco, ce l'ha proprio in tasca? Visto? Sacchettino. Penso che i proprietari di cani debbano essere più educati, sinceramente. Vedo che lei gira con i sacchettini per raccogliere invece le feci dei cani, che cosa ne pensa di quelli che invece non lo fanno? Eh, che cosa posso pensare? Solamente che sono degli incivili, tutto qui. Quindi per non rispondere male certe volte lo offro.